Sai come fanno allo stadio? Che dicono il nome, e quello dice il nome, e tutti la gradinata, insomma, dice il cognome. Bene, che bella, questa mi è venuta così, una belinnata pazzesca. Sì, no, infatti, ti stavo seguendo. No, io dico Piero e loro dicono, parodi, capito, come allo stadio, guarda che interessante. Bene, stai migliorando. Piero! Parodi! Piero! Parodi! Piero! Parodi! Grandi! Bene, fatevi un applauso. E gli altri portiamo via un po'. Che ideona, puoi capire. Facciamo entrare una storia, veramente una storia. La storia? Sì, la storia. Vi faremo entrare la storia. E quello sta parlando? Oh, stiamo parlando di te, da un mezz'ora. Qui abbiamo... Vieni, ti devo presentare, c'è un signore. Un signore. Che ci ha chiesto, per piacere, se poteva cantare stasera, vero? Sì. Sì. Venga, venga. Ma diciamo... Non sei di Sturla? No, sono di La Foce. Sono di La Foce. Sono di La Foce. Come la spezia, un po', La Foce, così. Ok. Senta, puoi andare qui al centro? Sì, venga. Venga, venga. Ah, ma hai visto tanto pubblico così? Beh, lì, mai. Io cantavo per la strada. Ah, che bello. E ogni tanto così accompagnavo un certo Bruno Lauzzi. Così, per ridere. Per dire. Per la strada. Per la strada. E poi ha scritto, diciamo, qualche brano così che ha avuto anche, insomma, un attimino di attenzione. Ah, sì? Soprattutto per quelli che... Quelli dal Palato Fino. Palato Fino. Ricordiamo un attimino due brani per dire... Lo strassé, ostaie, triperia... Questi qua sono brani che sono rimasti nella storia della musica genovese. Lui è Sergio Alemanno! Grazie. Buonasera. Buonasera. Caro Piero, una parola molto ricorrente questa sera è amici. Per cui è per questo che ho scelto questa canzone che si chiama Amici. Non so se riesco a cavallare la gamba perché ho 81 anni e mezzo. E cavallando la gamba non so che cosa può succedere. Voi non ve ne accorgete, ma io Bellino. Amici. 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 Pensionate a porta. A tre ue denette. E amici. E amici. E amici. E metti giù a pinata. E caccia due trenette. Per amici. E amici. O figlio sa deixa. E a mugia, a mugia, a mugugna. E amici dai, per una volta. E amici. E davanti a o butti giù, o butti giù, di quello bu. Ciao, Gioan, come ti stai? Ciao, Gioan, cos'è ti fai? Monto scardabagni a Bombay. A Bombay. A Bombay. E si a Bombay. Bellino a Bombay. Amici. 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 E quella volta a scura che non sono speso per i mesi, belinchi amici, gli amici. Ma quella volta, o ma, che stavo per negare, ma stavolta anche gli amici, gli amici. E davanti ho butti giù, ho butti giù di quello bu, e ti pipo, come ti stai, e ti pipo, cos'è ti fai? Monto scaldabagni, a rie, a rie, esci a rie, non te vergogna, a rie. Amici, 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 ciao amici. Ciao, grazie, ciao Piero. Facciamo un grande applauso alla storia della musica genovese, Sergio Alemanno, che è il più grande rappresentante, insomma, della musica genovese. Pensate, stasera, stasera, tra tutti gli artisti, è il più giovane. Esatto, perché ne hai adesso, esattamente. Non lo dire. Facciamo un grande applauso, Sergio. Grazie, grazie della tua partecipazione. Cosa è il Deketu? Opa, tu lì.